Dopo un lungo periodo in assenza di precipitazioni, a partire dalla giornata di venerdì, una perturbazione interesserà tutta la regione, portando nuovi apporti nevosi, anche abbondanti. Si prevedono infatti complessivamente, tra venerdì e sabato, forti nevicate sui settori retici, da 45 a 55 cm, localmente molto forti sull'Eurobia, da 35 a 60 cm, circa 35 cm su Adamello e Prealpi Bresciane, di entità inferiore sugli altri settori prealpini. Sui settori alpini, nuovi accumuli, anche abbondanti, andranno a depositarsi su un manto nevoso vecchio, per cui la nuova neve non si legherà bene, se non lentamente, con questi. Soprattutto in presenza di accumuli maggiori e di sottostanti crosse a rigelo, sarà possibile su pendii ripidi provocare il distacco di valanghe di superficie già con debole sovraccarico. Sui settori prealpini, la nuova neve si depositerà invece generalmente su terreno vergine o erboso e in questi settori il pericolo principale sarà localizzato nelle zone ripide a nord, dove era ancora presente neve residua rigelata. Prestate davvero attenzione agli instabili nuovi accumuli di neve fresca e anche da vento che si presenteranno per lo più soffici. Grazie per la visione! Grazie per la visione!